Sorprendente questo libro di Tom Nichols, un professore americano, che si intitola La conoscenza e i suoi nemici ed ha come sottotitolo L'era dell'incompetenza, attenzione alla seconda parte e i rischi per la democrazia. Di che parla? Io ho preso qui qualche appunto, vorrei riuscire a leggervi i tre passaggi fondamentali della sua tesi, che non è nuova. Quello che sorprende è che quello che lui dice riferendosi agli Stati Uniti e agli americani può essere preso paro paro e trasportato qui per gli italiani nel nostro paese. Lui dice, siamo di fronte a qualcosa di peggio degli ignoranza, si tratta di un'arroganza infondata dello sdegno di una cultura sempre più narcisistica che non riesce a sopportare neanche il minimo accenno di disuguaglianza di qualunque tipo essa sia. Ogni incompetente si sente alla pari con ogni competente intitolato a contestare sulla base di quello che lui crede sia vero, di quello che lui reputa, presume che sia vero, le nozioni degli altri. C'è per esempio un esempio molto impressionante quando molti americani criticarono l'intervento possibile temuto in Ucraina, ma richieste di indicare su una carta geografica dove fosse l'Ucraina, quasi nessuno per l'esattezza, solo un americano su sei e meno di un laureato su quattro, un laureato su quattro, meno del 25%, fu capace di dire l'Ucraina è lì. Quali conseguenze porta questa cosa allarmante che, ripeto, lui si riferisce all'America, ma possiamo benissimo riferirla all'Italia? È che gli americani nutrono aspettative sempre meno realistiche di ciò che il loro sistema politico ed economico è in grado di dare. Vi viene in mente nulla relativamente alle promesse che anche durante questa campagna elettorale vengono continuamente elargite? E poi ancora, il finale. Quando la democrazia viene interpretata come un'infinita richiesta di rispetto immeritato nei confronti di opinioni infondate, tutto e il controllo di tutto diventano possibili, compresa la fine della stessa democrazia.